Il Matelica guadagna un punto su un San Nicolò battuto in casa dal Castelfidardo 2-1, con i biancazzurri che si fermano a quota 8 risultati utili consecutivi. Epifani deve rinunciare al capitano Petronio per un problema muscolare, oltre agli infortunati di un lungo corso Napolano e Pretara. Moretti invece sconta la prima delle tre giornate di squalifica. Bisegna venne dunque arretrato, accanto a Dilullo, con Di Benedetto, Bosidi, il giovane De Carolis, alle spalle di Traini. Dall'altra parte, Bolzan deve fare a meno di Molinaro e Lodi, con l'ex biancazzurro Galli, punto di riferimento dell'attacco ospite. Nei marchigiani subito presenti, inoltre, gli ex Teramo Filippone, Piggini e Orlando. La partita è soporifera per mezz'ora, con il Castelfidardo che ci prova in un paio di occasioni dalla distanza, ma senza impensierire più di tanto Ciotti. Il San Nicolò, proprio allo scoccare della mezz'ora di gioco, passa in vantaggio con Traini, ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante biancazzurro. E la rete viene così annullata. Qualche minuto dopo, Traini fa l'assistman per Di Benedetto, anticipato sul più bello però da Silletti. Il Castelfidardo riparte, proprio Silletti serve albanesi sulla corsa, ma il suo tiro centra la parte alta della traversa e finisce fuori. Prima di rientrare negli spogliatoi, ancora Di Benedetto ad avere una buona occasione, con un diagonale che attraversa l'area e termina fuori, senza che Traini riesca ad intervenire. Nella ripresa ci sarebbe bisogno di un San Nicolò differente, se la scuola di Epifani vuole davvero ambire alla seconda piazza. Cambiamento che però non arriva, e la gara sembra potersi sbloccare solo con un episodio che arriva puntuale al diciassettesimo. Bisegna indirizza un calcio di punizione in aria, il capitano per un giorno De Santis è il più rapido di tutti ad infilare alle spalle di Melillo. Gli ospiti, con ben altre necessità di classifica, si buttano in avanti e nel giro di tre minuti la gara incredibilmente cambia. Prima è Montagnoli a bucare ciotte vicino all'area piccola per il pari, poi Maisto trova di testa addirittura il vantaggio per il Castelfidardo. Nel finale gli ospiti reclamano un calcio di rigore con l'arbitro che non è dello stesso avviso, mentre Traini dall'altra parte vede annullarsi un'altra rete per fuorigioco. E poco dopo lo stesso attaccante viene murato da Filipponi nel suo tentativo in aria che chiude di fatto la gara. Per il San Nicolò ci saranno altre tre gare a disposizione per provare a centrare il miglior piazzamento utile in ottica playoff, distante adesso tre punti. Oggi sono deluso perché non ci siamo fatti trovare pronti a una partita che l'hanno messa in guardia. Quando incontri queste squadre disperate di punti possono sembrare facili. Oggi abbiamo pensato che era tutto facile, era una passeggiata. Poi quando ti rendi conto in campo che non è così, te la sei costruita mentalmente e così, non la riesci a rigirare. E abbiamo fatto una bella figura oggi. Mi dispiace perché oggi potevamo raggiungere questo secondo posto. Vuol dire che anche io non sono stato bravo a fargli capire che oggi era una partita troppo importante e delicata. Però questo ci serve anche per l'essere uomo. Quando incontri partite difficili o facili sulla carta dobbiamo pensare che non possiamo mai abbassare la guardia perché vuol dire che non siamo una grandissima squadra.